Ciao a tutti, benvenuti a Caos, siamo qui questa sera a pranzare gli abiti in compagnia di Monica, Monica, la tesolare sarebbe giusto? In teoria, in teoria, non si dicono, giusto? Ecco, siamo qui per comunicare l'evento del Giungo Peace di dicembre, che sarebbe un venerdì sera, un venerdì sera, sì. Dalle ore 21 avremo l'occasione di ospitare qui, grazie all'ospitalità della ragazza Monica qui presente, Piano Giorgiani, sarebbe candidato per un prezzo di grande fratello. La serata si fa da non perdere, in compagnia con Chiara Giorgiani, altri ospiti inediti della zona, sicuramente ci sarà da nitre, da scherzare, grande divertimento, con accompagnamento di una grandissima musica, di copte fantastici. Il prezzo è gratuito, venite, venite a tutti qua, ci aspettiamo, il caos, la calarate e via. Ma, piatto risorgimento. Ah, piatto risorgimento, neanche in via. Sì. Piatto risorgimento numero? Sì. Numero sei, ecco, l'emozione. Questa è l'emozione della voglia. Non mancate, grazie a me, per il prezzo di notazioni, 342, 5365, 646. Info e contatti, Facebook, Sampo di Vita Manager, Sampo di Vita FFG, grazie a tutti i cianni. Vogliamo dire un'unica cosa a tutti quelli che avete sentito questo video? Ti aspetto, ti aspetto a tutti. Ecco, il diavoletto ti aspetta insieme al conche d'acqua. Al conche d'acqua, è un santifico. Comunque, venite, voi avete stato a divertire, grande energia in questo locale, grandi drink, ottimo staff, solare, da un pausa. Un bacio a tutti quelli che ci sentiranno. La Gauss, che ha la bravo, sia a tutti. La Gauss. La Gauss. La Gauss. Sì. Un bacio, ciao. Ciao. Ciao.